E' doverosa una premessa. Per chi come il sottoscritto ha educato il suo orecchio musicale con i versi del divimbardo e le sonorità anglofone di tutti i tempi, è difficile, se non impossibile, essere obiettivi e si diventa diffidenti verso qualunque traduzione. Tanto più quando l'originale si avvaleva di interpretazioni memorabili come quella di Karl Anderson, prima della sua scomparsa, e di una presenza fisica e vocale mozzafiato come quella di Annie Stewart. E' evidente che si sta parlando della più popolare opera rock al mondo, ma non della versione inglese di Jesus Christ Superstar, ma di quella della compagnia dell'arancia che si intitola Jesus Christ Superstar. E sì, perché il titolo e il nome del protagonista in realtà è l'unica cosa a non essere stata tradotta. Tutto il resto è in italiano. Diciamo subito che va guardata con ammirazione un'operazione così ardita, temeraria e originale. Non deve essere stato facile sfidare, con una traduzione all'altezza, ritornelli scolpiti nella coscienza collettiva da 36 anni e brani divenuti un repertorio classico da portare ai provini. Non è stato facile, ma il risultato è lodevole. Così come degno di nota è il tentativo di adattare l'ambientazione ai giorni nostri. E a garantire professionalità, buon gusto e sapienza tecnica, c'è l'esperienza della maggiore produttrice di musical in Italia, la compagnia dell'arancia. Detto ciò però non ci si può esimere dall'esternare innegabili e personali moti dell'animo. E il primo e più insopprimibile movimento emotivo è stato provocato dall'apparizione di una Maddalena in hot pants, stile Barbie un po' sgallettata. Sarà con ogni probabilità un problema individuale di sclerosi e di mancanza di elasticità mentale, ma sentire Maddalena cantare cerca di rilassarti, prova a calmarti, va tutto bene, la fa sembrare fuori luogo, fuori tempo e fuori senso. Ma anche l'ambientazione contemporanea suscita perplessità perché spesso ridotta a pennellate superficiali, come la presenza crisciale della tv e di giornalisti fantocci, e in generale disorienta e distrae dalla bellezza e verità di testi e musicalità. Fanno eccezione alcune invenzioni sceniche e coreografiche veramente incisive, come il tormento di Giuda riflesso in un gigantesco specchio, coscienza dell'anima, e la semplice ma efficace sequenza delle 39 frustate. Resta comunque l'incapacità di chi parla a lasciarsi trascinare e coinvolgere emotivamente fino in fondo, e resta anche un dubbio del tutto soggettivo. Si arriverà un giorno a cantare Jesus Christ Superstar, uomo, profeta o divinità? Ma in attesa che i posteri diano largo sentenza, si preferisce chiudere con un'ultima concessione al piacere di un orecchio nostalgico e anglofilo.